Per festeggiare i primi 5 anni dell'attività, l'editore Gesmino Collo ha ideato un premio da assegnare ogni anno, a cominciare da oggi, ad una personalità che si è distinta come operatore culturale nel settore dello spettacolo, in borghiera e non solo. In collaborazione con l'Accademia delle Muse si è deciso di assegnare il primo premio Portigliera Web TV all'insegnante di danza Mirella Aguiaro, direttrice della professoressa di Borghiera, il suo professore di Borghiera, il suo professore di Borghiera. All'età di 10 anni entra nella scuola di Susanna Egri, diventando prima ballerina, continua i suoi studi a Mosca, Cane e a Parigi. Mirella è stata anche solista nella compagnia italiana di balletto con Carla Fracci, danzatrice e coreografa con Marina Igiovanini, con Gino Landi, in Alleluia Brava Gente. Nel cinema è stata titolare coreografa nella Città delle Donne con Marcello Mastroianni. Ha lavorato sul set di Casanova con Federico Fellini e ha lavorato con Paolo Villaggio e Roberto Benigni, in La Voce della Luna con Regista Fellini. In TV è stata coreografa di Fantagiro con la brava Alessandra Martinez. Nel 1992 ha aperto la scuola di danza professional dancing via Verrato Borghiera che attualmente dirige con il figlio David. Ora io chiamerei l'editore di Borghiera TV, Gesuino Collo. Vieni a prendere. Il figlio che la Borghiera TV, a me è a vogliaare come operatrice culturale nel campo della danza e dello spettacolo. Grazie. Ma è tutto vero ed è una minima parte di quello che modestamente ci ha portato qui a Borghiera e ancora oggi cerco di trasmettere. Grazie. Complimenti e bravo. Una bella vecchiazza. Grazie. L'ultimo saluto lo lascio al sudico. Il prossimo. Il saluto è un ringraziamento a voi, anche a Viene delle Muse che ogni anno presentate alla città di Borghiera artisti, nella prosa, nella poesia e nell'artistoria. Grazie per quello che ci mettete. Questo nuovo premio che invece da in un'altra anni si dimora la croca di Borghiera TV è un premio importante ad una persona che abbiamo sentito dato molto, può dare molto apprezzare la città di Borghiera. Continuo a nello dire perché la possibilità di dare a gioco e anche meno gioco la possibilità di poter dimostrare le proprie capacità e essere riconosciuti per quello che fanno è un'altra cosa importante. Grazie. 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 Grazie.